I carabinieri di Bari hanno sgominato una banda di ladri che avrebbe compiuto numerosi colpi nelle province di Bari, Lecce, Foggia, Bat, Benevento, Potenza e Matera. L'organizzazione della banda era precisa. Il primo gruppo si occupava degli assalti ai bancomat e ai furti in ville e appartamenti. Il secondo era specializzato nei furti di auto di grossa cilindrata. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati di bancomat, ai furti in ville e abitazioni e di autovetture. Contestata anche una rapina a mano armata e un sequestro di persona. A finire in manette Massimiliano Rizzo, 41 anni, Stefano Ferri di 34, Giacomo Anaclerio, 39enne, Gaetano Cutrignelli, 43 anni, tutti di Bari e poi Tommaso Nuzzi, 40enne di Corato, Savino Liso, 44enne di Andria, Aldo Di Tommaso, 26enne di Corato e Giuseppe Cuocci, 60enne di Bisceglie. L'operazione è stata denominata Breakdown the Wall perché uno dei colpi è stato effettuato con l'ausilio di una pala meccanica. Il mezzo pesante è stato utilizzato per rapinare il bancomat dell'ufficio postale di Palo del Colle. Colpo però fallito. Le indagini condotte dai militari sono avvalse di attività di intercettazione telefonica, osservazione, controllo e pedinamento.